Abbiamo già vinto il loro, andiamo a Piazza 1. Ragazzi, qualcuno può spiegare cosa sta succedendo? No, abbiamo già vinto e adesso prendiamo il pulmino, come ha detto Valle, andiamo in Piazza Doma a festeggiare perché in casa non vuole più giocare. Cosa sta succedendo, ragazzi, per sapere? Si è rotto il pulmino. Cos'è? Che momento è questo? Dico io. Mancano dieci minuti a... Alla partita. No, alla partita, ma... All'ipotetico arrivo per giocare cosa? All'ipotetico arrivo allo spogliatoio per giocare la finale di Champions League. Barretto ha chiamato il padre. Finale di Champions League. Guardate dove siamo, un attimo. Dore, questo è il colpo di alieni. Volete comprare qualcosa di alla Obino? Allora, questo è il palleggiatore che dovrebbe giocare oggi. Sentite cosa sta dicendo. Sentite un attimo. Lo ho visto solo io, ragazzi. Lui è quello che dovrebbe essere il regista di una squadra che vince la Champions League. Abbiamo portato qua un bel regalo alle squadre, ok? Sta ubriacando. Adesso beviamo qualcosa. Giocherà ubriaco. E poi facciamo un giro con il macchino. Ecco, sentite quest'altro, questo è uno che dovrebbe fare 20 pulpi. Sentite? Assurdo. Guardate, no, facciamo un grand'angolo. Grazie, grazie, grazie a cazzo. Mi è stato piacere, mi è stato piacere. Mi è stato piacere. Esordisce con mi è stato piacere. E qui il coglione che pensa bene di fare un filmato a 10 minuti dalla fine del Champions League. Non è tanto, ragazzi. Cosa dobbiamo fare? Nessuno ci dice cosa fare. C'è il Macbook. Andiamo, ragazzi. Sembra che si vada. Andiamo, ragazzi, andiamo. Andiamo. Andiamo un po'. Dai, dai, te lo mettiamo sopra, Raffa, dai. Oh, Raffa guida io. No, no, aspettate, aspettate. Aspettate. Guido io questo. Dai, buttati dentro. Dai, Raffa, vieni dietro. Raffa, dai, dai. Dai, Raffa, dai, Raffa. Che cosa succeda? L'abbiamo già chiamato per un po'. Ti ha lo gatti noi. Doni, andiamo. Ai, canto. Ma sei tu, no? Ma sei tu. Un po' mi chiedi. Buona volta. Oh, oh, oh. Buon, buon, buon. È storica, ragazzi. Volleyball.it vedrà questo video. Eh, vieni su con la macchina, allora. Va bene? Ma non, Raffaelli. Grazie. Stai buono. Stai buono, per favore. Allora, ragazzi, andiamo perché Casargi è entrato in campo. Sono le 16.25. Allora, finalmente arriviamo a tempo giusto. Ragazzi, filmiamo un po' l'orologio di Dore, per favore. Il pullman è rotto. Dore, puoi filmare un po' l'orologio? Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Il pullman è rotto per la prima volta nella storia. Sarà un segnale? Speriamo di no. Adesso c'è un altro lì, ragazzi. Vai lì, vai lì. Ecco, vedete, vedete il problema al pullman. Guardate il problema al pullman. Il quadro. Non preoccuparti, Alessio. Grazie, vai. Guardate, è un attimo così. Ah, qua c'è un chiave. Qui c'è un chiave. E' un'altra macchina. Caesos, Laura. Ma lì c'è posto. Rafa, vuoi andare lì? No, non, Rafa qua. Conte. Conte, senti, 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 è qua. Sì, è un... Sul tuo cuore. Non c'è. Un'altra macchina. C***o che vuole, Movimento. Oh. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A posto? Dove? Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, sono tutti qua a pila. Andre. Vieni, vieni. C'è un chiave lì. Che cosa? Vieni, 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 vieni. Bella, bella. Vieni, vieni. Vieni, vieni, subito. Dovevo mettere i palli, no? Riky, più veloce davanti. Adesso ce ne mettiamo sempre fino al palazzo. Riky, più veloce davanti. Oh, addio, il cuoco di calma più veloce. Oh, basta, due, vecchie ore prima. Oh, pure il cuoco. Restiamo. Calma, Pazzezzo, con calma. Con calma. Riky, se volete io mando su Babbo che hanno l'elettrauto. Eh, adesso sentiamo Alessio. Attenzione, Barretto si sveglia. Mamma mia, dice. Guarda lei, guarda lei. Guarda lei, guarda lei. Ai, ai, ai. Guarda lei. Sai che è Rado che guida anche? Chi è che guida con lui davanti? Rado. Vai Rado, vai Rado. C'è anche Macei. Macei, Macei. Ma c'è da dormito, Macei. Guarda davanti, figlio. Macei davanti, capirai. Guarda Macei, eh. Macei, non c'è la strada, ragazzi. Ma c'è non so la strada, oh, è veramente. E io muovo. Grazie, no? Dai, sì, sì, sì. Hai visto? Quantoenne? Sì, sì, sì. Poi, vieni. Hai visto o no? Ma se, segnali, segnali satan. C'è da rimanere. Incredibile. Vabbè, io direi che chiudiamo qui il nostro collegamento e vediamo se... Sì, 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 sarebbe perfetto. Come dice Barretta? Sì, sì, sì. Se non dovessimo andare a giocare la finale, sempre sarebbe più perfetto. Eh, lo so, però... Perfetto per cosa? È perfetto per farci quattro risiati, invece sempre con lo strumento. Ci stiamo caccando sotto. Guarda, Leo, guarda, Leo.